Sono felicissimo di aver organizzato questa riunione a Benevento perché d'accordo con l'editore dovevamo scegliere la sede e subito abbiamo deciso di farla a Benevento perché è la mia città. 12 anni con i colori giallorossi che ti rimangono cuciti addosso sempre, non si possono mai dimenticare, per me sarà sempre la mia famiglia. E fare questa presentazione oggi che parla proprio di calcio e riuscire a farla dopo tre anni brutti dove non potevamo fare nessun incontro, rifarla un'altra volta ma Benevento per me è un'emozione fortissima. La trilogia è iniziata nel 2020 e finita quest'anno, nel 2022, nei tre libri praticamente io analizzo tutto ciò che è stato fatto nel calcio per quanto riguarda la metodologia dell'Avento, da dove siamo partiti, dove siamo arrivati, gli errori commessi e dove cercheremo di arrivare. E quindi è un'analisi storica completa che analizza la figura sia del preparatore atletico ma di quelli che sono i componenti di uno staff in una squadra di calcio.